Salve abbiamo una nuova missione per ieri No! In materia ci è stato segnalato che ci sono delle novità sulla sparizione delle forbici della dottoressa Pellegrino Andiamo a vedere cosa ci dice questo nostro amico Salve ci troviamo a Matera siamo andati a trovare il nostro amico Sentiamo un po' cosa ha da dirci questo signore riguardo la sparizione delle forbici della dottoressa Pellegrino Vuoi qualcosa segnale? Vuoi qualcosa segnale? Andiamo a sentire il nostro amico Allora lei cos'ha da dirci riguardo la sparizione delle forbici della dottoressa? Pellegrino No Allora buonasera Io non sono di Matera sono di Pumarico prima di tutto E poi volevo dire che la dottoressa Pellegrino dice sempre che la forbici è qui Se le prendete Jack Sparrow Se le portate in Africa, in America, in Venezuela Buonasera No è tutto buonasera Vedi che è la tenietta la forza Quindi lei vuole dire che la forbice non è scomparsa? No, la tenietta la forza Se è vero quello che ci dice il nostro amico Noi andiamo a controllare dalla dottoressa Pellegrino Andiamo, andiamo a controllare Siamo giunti davanti a casa della dottoressa Pellegrino Suoniamo la porta Dovevi fare il suono? Andiamo Eccoci che ci troviamo davanti a casa della dottoressa Pellegrino Suoniamo la porta Ecco che ci ha aperto Anche se non sembra Buonasera dottoressa Abbiamo visto che aveva delle forbici in mano Ci sa spiegare come mai? Eh sì, queste sono le mie Eppure erano sparite Avevamo saputo che Eh 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 Che ero andato un po' in giro eh Lo so infatti le mie si sono perse E queste le ho comprate per fare il regalo a Giovanotta A A che gliele avevo promesse A A Allora Allora il mistero è svelato Le forbici non sono altro che delle nuove forbici Quindi La dottoressa Pellegrino Uh A A Queste forbici le regalerà a Giovanotta A 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 Andiamo a controllare Non andiamo a controllare Il mistero è svelato Il caso delle Iene è chiuso Alla prossima Ah ciao Approfittiamo di questa cavolata di video Per fare un saluto Alla squadra Ciao Ciao Vai Salve Abbiamo un nuovo? No Sembra che c'è un saluto Vai Salve Abbiamo un nuovo? Caso Pellegrine Salve Abbiamo un nuovo? Caso Pellegrine Che ci ha chiamato? Ci ha chiamato un nostro amico Vai Salve Abbiamo un nuovo caso? Pellegrine Pellegrine Salve Abbiamo un nuovo caso? Pellegrine Matera Un signore Un cliente Ci ha chiamato? Vabbè Per dirci che ha delle notizie Sulla scomparizione Un nuovo scomparimento Della forbice Della forbice Della dottoressa Pellegrino Se è vero Se è vero quello che ci dice il nostro amico Noi andiamo A controllare Della dottoressa Pellegrino Andiamo Andiamo a controllare Mo cadiamo Ecco che ci ha aperto Anche se non si vede Salve dottoressa Pellegrino Abbiamo visto che giocava con delle forbici Erano le sue Erano le mie E come mai ha detto che erano spadite queste pediglie Dove non si trovavano Più Più No 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 Aspetta Ciao Ciao E dopo No Ciao Ciao Ma quanto è bello andare in giro Con le aree sotto i piedi Se la mia best best E ci anche Ti toglie i problemi Ma quanto è bello andare in giro Per i colpi Per i colpi Se la mia best E ci anche Ti toglie i problemi E l'escola non va Ma una best Ma una donna non o no O una best Domenica e già E una best Mi porterà Fuori città 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 Grazie a tutti.